Siamo di nuovo a Pesaro, ancora una volta per la finale di questa bella manifestazione organizzata dalla WISP in tutta Italia, che è il circuito Summer Basket, che da 24-25 anni è la migliore manifestazione sportiva in campo cestistico della nostra associazione, oltre alle finali nazionali che promuoviamo ogni anno. Questa del Summer Basket è sicuramente quella più seguita perché raccoglie oltre 60-70 tappe in tutta Italia e qui abbiamo in questi due giorni finali 42 squadre in rappresentanza delle tante città che hanno partecipato a questo circuito. Come sempre il Basket Giovane ci accoglie con la sua struttura e di questo ringraziamo i dirigenti dell'associazione che ci mettono a disposizione questo bellissimo impianto proprio sul mare e un ringraziamento a tutti quanti che hanno contribuito a questa iniziativa a partire dai comitati territoriali WISP che hanno organizzato le varie tappe e a tutta la struttura della WISP nazionale Lega Basket che ha realizzato anche con piacere ma anche con difficoltà questa tappa finale. 59 tappe in tutta Italia con migliaia di partecipanti che hanno selezionato 42 squadre provenienti da tutte le regioni che si sono misurate nei playground della struttura di basket giovane sul lungomare cittadino. Tre tornei che si sono disputati, Open maschile, Open femminile e Under 18 e quasi 200 le partite che hanno consumato il campo del playground cittadino. Due giorni di divertimento e sport che hanno visto giovani, giovanissimi e meno giovani giocare a pallacanestro in modo informale e destrutturato. La formula della pallacanestro di strada si conferma vincente. I risultati delle gare. Per l'Under 18 hanno vinto i Real Colizzati seguiti da Atac e Olimpia. La classifica Open femminile ha visto al primo posto le ragazze dell'equip, al secondo Stai andando bene Giovanni e al terzo Nasi Rotti. L'Open maschile è stato vinto da Green Hope, secondo posto per le bazze ladre e terzo Team Basket Reggio. Grazie a tutti.